Rimarranno fuori casa a livello precauzionale, almeno fino a lunedì, le 10 persone evacuate nella tarda serata di mercoledì scorso dal sindaco di Aprica Dario Corvi, a causa di uno smottamento che ha lambito la frazione di San Pietro. Le forti piogge hanno favorito la discesa a valle di 2.000 metri cubi di materiale detritico, mentre poco meno di 1.000 metri cubi sono rimasti in quota minacciando l'abitato e il torrente Magada. Chiusa al traffico anche via ospitale, danneggiata dal dissesto, che conduce alla frazione al momento disabitata. La situazione è sotto controllo, rassicura il sindaco Corvi. Abbiamo adottato tutte le misure necessarie al fine di non correre rischi. Gli evacuati prosegue e hanno trovato ospitalità presso parenti e amici. Ora, conclude Corvi, ringraziando il Vigilio del Fuoco, la Protezione Civile e i tecnici comunali, sono in corso una serie di sopralluoghi per verificare le condizioni di stabilità dei versanti. Intanto prosegue l'isolamento dei 40 residenti di Arigna, Ponte in Valtellina, impossibilitati a scendere a Valle in Auto, dopo che su parte della strada comunale, unica via di collegamento con il Fondovalle, si è aperta una voragine. E mentre la fase più critica sembra ormai alle spalle, anche nella giornata di oggi, Protezione Civile e Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il territorio duramente danneggiato da piogge, raffiche di vento, contaglio piante e sistemazione di alve, di torrenti e ruscelli. L'intervento più consistente è stato effettuato a Prasomaso, a Tresivio, con il taglio di due grossi alberi abbattutisi sul tetto di due abitazioni. Infine, secondo gli esperti di Arpa Lombardia, l'estenuante perturbazione con pioggia incessante è ormai alle battute finali. Nei prossimi giorni, prevista molta copertura nevosa e deboli precipitazioni, con il ritorno del sole da martedì. In quota si registra un accumulo di neve fresca che spazia dagli 80 ai 140 centimetri dai 2.000 metri a salire, una condizione che, favorita dall'inalzamento a 2.800 metri dello zero termico, ha fatto impennare, ha elevato l'indice di pericolo valanghe con distacchi probabili anche con il passaggio di un singolo sciatore.